In linea di massima, in generale, quali sono i vantaggi che una dieta vegana porta a confronto di una dieta generale, considerata una dieta mediterranea? Allora, la premessa che dobbiamo fare è che vegan indica una scelta di tipo etico e quindi ci dice che quella persona non si alimenta mangiando cibo animale o derivati. La parola vegan però non ci dice niente di quello che è un'alimentazione sana, equilibrata, ben pensata e che abbia un criterio prevalentemente vegetale. Non ci dice niente di quelli che sono gli alimenti che sono adatti a un'alimentazione equilibrata. E gli elementi che sono adatti a un'alimentazione equilibrata e vegetale sono i cereali integrali, la frutta, la verdura di stagione, i legumi, i semi, la frutta secca, che noi vegetariani o vegani mangiamo in grande quantità, e i condimenti di buona qualità. Queste sette categorie, combinate in modo appropriato, quindi che ci siano un po' tutte nella nostra giornata alimentare, creano la base e il pilastro di un'alimentazione che abbia un senso e che si adatta alla persona a cui è rivolta e che è prevalentemente vegetale o vegetale al 100%, ecco nel mio caso. Lei da nutrizionistra, scrittrice, vegan chef, come spiega il recente boom che c'è stato del veganismo? Allora, io auspico che questo boom continui, o perlomeno io penso che le persone oggi, grazie agli strumenti anche che si hanno di conoscenza, siano venute a conoscenza di alcune cose che magari 15 anni fa era più difficile recepire. Le condizioni dei nostri allevamenti, gli animali come vengono tenuti in allevamento intensivo, quali sono i limiti di questo sistema che ha ormai mostrato veramente più limiti che vantaggi, anche dal punto di vista della salute umana, perché animali allevati in quelle condizioni non possono essere un cibo sano per chi lo considera un cibo. Per me che non li considero più un cibo non si pone, diciamo, la questione, però la maggior parte delle persone, secondo me, delle domande inizia a porsele con delle relative risposte. E proprio a causa di questo boom, molti ristoranti già esistenti hanno pensato di introdurre all'interno dei loro menù alcuni piatti vegani. Secondo lei, questo cambiamento è positivo o è meglio che esistano dei ristoranti proprio vegani specializzati? Ma io penso che, io sono più contenta, ecco, diciamo, il mio punto di vista, ma è proprio il mio punto di osservazione, io sono più contenta quando vado in un ristorante tradizionale e riesco a orientarmi nella carta che si adatta a tutte le esigenze alimentari. E difficilmente vado in un ristorante che è esclusivamente vegan. Mi piacciono, per esempio, molto i ristoranti orientali, dove la scelta vegetariana è comunque più facile. Oppure anche la nostra cucina tradizionale, io sono di origine pugliese e la cucina tradizionale pugliese povera, quella che era definita povera, è molto molto vegetale. Quindi io sono molto più contenta, così come sono più contenta di essere stata qui alla rassegna della microeditoria, nell'ambito della rassegna, cioè inclusa nella rassegna piuttosto che in un posto separato. E io preferisco quando, diciamo, le due cose si vanno a mescolare con tranquillità e quindi anche sedermi a un tavolo dove c'è una persona che mangia pesce o carne e io posso fare tranquillamente le mie scelte. Grazie mille. Prego, grazie a voi. Grazie mille.